Sono Alessandro Ricomono della E-Ring, siamo presentati i nostri prodotti da serie K, in particolare io ho portato quest'anno il K3, che è un prodotto di punta. Il K3 è costituito da un sub, da un'unità sub, dove all'interno troviamo due amplificatori, da un sub, dove all'interno troviamo due amplificatori che alimentano la parte bassa, la cassa acustica della parte bassa e poi i due top. I due amplificatori sono in classe D, digitali, e all'interno troviamo anche un DSP che regola tutte le funzioni d'esistenza. Siamo in un sistema molto piccolo, trasportabile, ma di costruzione e di qualità. Sì, la nostra è una piccola azienda. Noi siamo qui da diversi anni e piano piano stiamo entrando nel mercato europeo. Siamo nati circa dieci anni, perché prima ci occupavamo della produzione di un altro, delle calze a colonna, quelle che vengono utilizzate nelle conferenze, nelle chiese, quella del nostro principale business. Adesso stiamo entrando piano piano anche nei sistemi e ci teniamo a presentare i nostri prodotti con, all'interno, prodotti fatti in Italia e quindi che assicurano una certa qualità.